GF VIP7, Milena e Antonella cercano il nascosto da Oriana e Luca, video. Il sabato al Grande Fratello VIP7 gli autori organizzano delle feste a tema per i concorrenti. Di conseguenza, vengono date alcune bottiglie di vino ai concorrenti. Oriana Marzoli e Luca Onestini hanno pensato di nasconderla una in camera. In modo da sorseggiarla in un secondo momento senza condividerla con gli altri. Questa volta, però, Milena e Miconi e Antonella Fiordelisi hanno deciso di andare a cercare il vino nascosto. Il vino all'interno della casa di Cinecittà riesce sempre a creare nuove dinamiche. Durante la festa a tema di ieri, i concorrenti hanno iniziato a riempire i bicchieri ma ad un certo punto hanno notato che qualcosa non andava. Le bottiglie sono finite prima del dovuto, tanto che alcuni sono rimasti senza bevanda alcolica. Come mostra il video pubblicato da un utente su Twitter, Luca Onestini e Oriana Marzoli si sarebbero messi d'accordo per nascondere una bottiglia. Nonostante Micolin Curvaia sia apparsa contrariata dal gesto dei due coinquilini. Già Eled Edona avrebbe acconsentito. Al tempo stesso, la influencer Veneto avrebbe chiesto ai suoi amici di tenerla al corrente quando era il momento di berla insieme. In un secondo vide, si vede Oriana andare in camera e prendere da sotto il letto una bottiglia di vino per versare il contenuto a Luca. Non è la prima volta che Oriana viene accusata di nascondere delle bottiglie di vino per poi berle in compagnia dei suoi amici. Questa volta, però, qualcosa è andato storto. Antonella Fiordelisi e Milena Miconi si sono accorti che il vino era finito prima del previsto lasciando alcuni vipponi a secco. Sicure che ci fosse lo zampino della concorrente venezuelana, Antonella e Milena hanno cominciato a cercare per tutta casa la bottiglia di vino. La ricerca non è andata a buon fine, tanto che la influencer salernitana ha lanciato una frecciatina a Oriana, con lei non voglio avere nulla a che fare. L'atteggiamento di Oriana Marzoli e Luca Onestini non è passato inosservato ai telespettatori sintonizzati su Mediaset Extra. Su Twitter, un fan delle reality show ha sostenuto che Marzoli e Onestini non sanno minimamente cosa voglia dire il termine condivisione. Un altro utente ha accusato i due coinquilini di aver mancato di rispetto agli altri concorrenti. Un utente ha affermato, scena patetica e ridicola. Un altro telespettatore si è detto dispiaciuto che Antonella non abbia trovato la bottiglia, sarebbe stato bello vedere la faccia di Oriana. Tra i vari utenti, anche il fan di Oriana e Luca questa volta hanno rimproverato i due coinquilini per la caduta di stile. Rimaru, Spike, Buia, Sishuapo, grasul nimeni altu, Delvede sau Carbo. Trai sa va mananci versi cu versi, card intens, trai sa crezi, crezi ce vrei sa crezi. Eu va respect pe toti, dar focusez pe nivelul urmator de zici ca ma bar cu bossu. La cat de urat sunt, cum sa va iau cu frumosu? Metafore, hiperbole, le obtin prin alchimie. Cand adun cuvinte din domn, ma pun, le pierd la o mie de grade Celsius. Sa ramana spus si sa se stie, nu-i nimeni cel mai bun, dar evolueaza cel ce vrea sa fie unu. La cat de urat sunt, cum sa va, si 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 sa